Salve, risponde il Ministero della Solitudine. Il Ministero è a vostra disposizione e al momento non può rispondere. Lasciate nome in recapito telefonico e sarete richiamati prontamente. Il Ministero ringrazia e vi augura una luminosa giornata. Ma tu ci hai mai pensato che nei sogni più belli alla fine nevica sempre? Cerco un'apertura. Vorrei che venisse qualcuno. Cerco di mettere a posto tutto per questo arrivo. Io ho già attuato la regola numero uno del vostro va-de-me, come un cambiare ambiente. Uscire fisicamente dalle sabbie mobili, il famoso andante, se vuoi spostarti spostati, non sei un albero. Dovete aprire le porte. Avete fatto delle promesse. Avete scritto che vi sareste presi cura di noi. Interpreto i bisogni, ricevo le lamentelle con grazia. Distingo le solitudini ostentate da quelle striscianti. Accolgo e respingo a seconda di requisiti, attitudini, prove e dimostrazioni. Corpo di un uomo, con una camicia galleggia a testa in giù nell'oceano dopo un disastro aereo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Grazie. 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 Grazie.